buongiorno amici buongiorno amiche breve storia triste di questo dongle l'ho comprato su aliexpress è piccolino è bello è tutto satinato che non trattiene le impronte qui fa una lucina molto carina rossa e blu il problema è che non funziona quindi tutto bello ma non funziona l'ho attaccato varie volte alla mia autoradio lì per lì si si connette ma poi quando risalgo in auto lui non non si connette più ad android auto quindi purtroppo è bocciato ho provato anche a fare un aggiornamento firmware mi diceva che non era non era presente quindi farò farò reso aliexpress peccato perché era bello piccolino ben fatto ma la cosa importante che funzioni ea me con samsung android 14 e la mia audi non funziona